ciao a tutti amici di push the green abbiamo pensato di farvi un video per dirvi qual è la straordinaria promozione di quest'anno per la settimana del black friday beh quest'anno abbiamo pensato di fare... abbiamo pensato di fare... niente niente perché una delle promesse che vi facciamo sempre è quella di intervenire sulla filiera commerciale oltre che quella produttiva e logistica motivo per cui non ci siamo sentiti di fomentare questo sensazionalismo sui prezzi anche perché non possiamo dal momento che lo facciamo già tutto l'anno quel lavoro di ottimizzare e sapete bene che per noi è un punto della nostra missione quello di non rendere il cibo di qualità un bene di luce oltre a questo ci sono anche tutti i discorsi basati sul fatto che appunto cercando di ottimizzare sempre quello che è il prezzo della nostra offerta non abbiamo il margine per fare queste cose quello che facciamo in termini di promozione coi nostri clienti è uno scambio di valore perché questo costruisce l'apporto perché questo magari costruisce cultura e perché scommetto che se hai conosciuto e provato il nostro servizio è proprio perché ti è arrivata una segnalazione un consiglio da un amico che ci stava provando ecco noi facciamo questo in maniera strutturata non abbiamo niente contro il black friday anzi se di questo periodo potete risparmiare qualcosa ben venga l'unica cosa che veramente ci teniamo a dirvi è che anche questo è un piccolo segno di quello che vogliamo testimoniare sempre tutti i giorni per cui per questo periodo dell'anno il prezzo è quello di tutti i giorni dal momento che è già la maggior promozione che possiamo fare 365 giorni all'anno 52 settimane all'anno a proposito è uscito il meal prep che è una novità sono dei consigli guardatelo su appunto sul link e nel nostro canale youtube consigli per utilizzare al meglio quello che sono gli ingredienti che trovate poi nella cassetta di ptg quindi fatemi fateci sapere anche come l'avete trovato se vi è piaciuto ciao